52 52 52 Dal centro commerciale commerciale. Al centro commerciale. Si nous allions dans le grand magasin. Andiamo in un centro commerciale? Andiamo in un centro commerciale? Andiamo in un centro commerciale? Andiamo a fare dei corsi. Devo fare spese. 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 Je veux acheter beaucoup de choses. Voglio fare molti acquisti. 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 Où sont les articles de bureau? Dove sono gli articoli d'ufficio? Dove sono gli articoli d'ufficio? Dove sono gli articoli Ho bisogno di buste e carta da lettere. Ho bisogno di buste e carta da lettere. Ho bisogno di penne e pennarelli. Ho bisogno di penne e pennarelli. O sono le meubili? Dove sono i mobili? 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 Ho bisogno di un armadio e di un comò. Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale. Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale. Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale. Ho bisogno di uno scaffale. Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale. Ho bisogno di una bambola e un orsacchiotto. Ho bisogno di una bambola e un orsacchiotto. Ho bisogno di un ballone e degli scacchi. Ho bisogno di un pallone e degli scacchi. Ho bisogno di un pallone e degli scacchi. Ho bisogno di un pallone e degli scacchi. Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli utensili? Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli utensili? Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli attrezzi? Ho bisogno di un martello e di pinze. Ho bisogno di un trapano e di un cacciavite. Ho bisogno di un trapano e di un cacciavite. Dov'è la gioielleria? 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 Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di un anello e di orecchini. Ho bisogno di un anello e di orecchini. Ho bisogno di un anello e di orecchini. Ho bisogno di un braccialetto. Grazie a tutti